Lui mette i sottotitoli per far capire quello che sta dicendo l'altro Magari perché parla veloce come me e non si capisce mai un cazzo Mette i sottotitoli e fa capire anche gli altri Ebbè è bello da vedere Un consiglio è per un host dal sottofondo Sgancia Like a dream come true di Persona 4 Appena ti ho detto like a dream come true di Persona 4 3, 2, 1 Vai è partita È partita È partita in editing Giuro a me Non l'ho mai sentita male È partita in editing Dai ma che due coglioni raga Madonna quanto ho fatto fuori quel lusio Una delle cose più divertenti della mia vita Attenzione stocchettamento Ronaldo No Niente Ronaldo Mi dispiace tanto Devo dire ma tutto Ragazzi seguite poi sui social su Instagram Madonna sto morendo fra quello scrittore Ragazzi fra quello Madonna sto morendo seguitelo su Instagram E' importante Madonna muoio Dove l'acqua Madonna io non so prendere non c'è un anzo Perché sono così ritardato Hai fatto la tua spagna in testa? No Quella è l'unica cosa che non ho fatto Ho fatto la Pog Dai ditemi che ho fatto la Pog Ho fatto la Pog Con Vido Sono troppo forte Comunque Sai cosa è successo? Eh Stavo a fare gli 1v1 su Mother Combat Questo qua E ho andato da FK E ne avevo persi due Quindi sta 2-0 per lui Si arriva a 5 E all'invato ho vinto io Geniale Io ho fatto 4 Una quadrupla da solo Ammettiamocelo Ammettiamocelo L'ha detto eh Lui vuole Ah lo sa nei tuoi sviluppi Eh no E chiudi tu Stanto la taglio Sto parte No che poi c'è un Un aledito interessante Che non so se ti ho mai raccontato Di Gunna e le E le Meduse Te l'ho mai raccontata? Non credo Ah adesso Questa va nella live Questa va nella live Che non è una live Allora praticamente Eravamo Io Roberta E Gabri Cos'è successo? Siamo andati in spiaggia Per un bel appunto Abbiamo fatto anche il video Che aveva fatto Roberta E cose del genere E poi Andiamo a mare Ci buttiamo in mare Esatto E Tipo Allora iniziamo a prenderci per il culo Del tipo No qua ci sono le Le Meduse Ah 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 Praticamente Io faccio finta di Beccarmi una Medusa sul piede E allora Tipo C'è Roberta che si prende malissimo Gunna Tipo sta lì Massima tanto cosa vuoi che sia una Medusa Il secondo dopo Arriva una Medusa Che lo pizzica Noi prendiamo la Medusa col secchiello La buttiamo via E lui tipo era lì Ah ma Ah mi appunto E da lì c'è un meme Perché adesso Gunna è quello delle Come si chiama delle Meduse La cosa più divertente di tutte queste E che quando abbiamo preso la Medusa C'era un'altra ragazza Con noi Che ci aiutava a prenderla E quella tipa Mi ha chiesto il numero Così A caso No ma perché in realtà Quella tipa Mi stava guardando da due giorni E era una mischiaggia Io ero tipo Ma cosa vuoi della mia vita E allora Dopo che Gunna Ha preso la Medusa Abbiamo iniziato a parlare Poi Gunn se ne è andato E il giorno dopo Sono rimasta da solo con lei E quindi Mi ha chiesto il numero Fine Poi non mi ha più scritto Non mi ha mai scritto Però vabbè Qua ogni volta che sai di livello Ti danno una nuova Una nuova Come si chiama Dicitura Ah ok Adesso io sono diventato Sergente e strutture Capo senior Che cazzo Dimmi qual è il tuo grado Aspettate Devo ricontrollarlo Non me lo ricordo più Troppo lungo Parire il mio come nome Ah parire tu eh Basta dire Sei diventato di livello 31 Comunque Se non vuoi mettere I sottotitoli nel video Devi almeno Fare questo Questo cosa Sei stato promosso Grado sergente e strutture Capo senior Fantastico No non devi mettere questo Non devi mettere Eh io quando urlo Devi mettere tipo Le scritte grandi Però tipo Quando urlo Ma porca di quella puttana Metti tutto grande Ma porca di quella puttana Grande tutto Lo scherzo Hai capito? No perché sto cercando Di prendere una mercy Che non riesco a prendere Si ma lo devi fare In editing Non adesso Vabbè Non sei Ovviamente Che non pubblica video Pubblica sul live Attenzione ho fatto il dissing Sarà un video elaborato Sarà un video molto elaborato Con seba che mi dice I meme da mettere Io li metto Esatto Esatto E nel video E nel video E a file visual No davvero Sì Potevi dirmelo prima Che apressi un canale Di merda Non ci conoscevamo ancora Eh vabbè Dai Me lo dicevi Mio caro Infiniti Dave Tanto si sa in questo canale Non la tagli Questa parte Non la tagli E invece la taglio Presente quando nei video Dicono Dicono Orca puttana Dicono Guardare le strisce Dovevi E lancrati Perché non erano Vestito Sì Quando un rolio Ah di mettere Un'immagine Di una ragazza Ah va bene Perché devo Mettiti gli occhiali Oggi registri Con gli occhiali Mettiamo gli occhiali Mettiamo gli occhiali Basta Basta Si mettono gli occhiali Raga Basta Sai che non sono messo Gli occhiali No Si un paio di volte Si Comunque Si ha merito Da 40 minuti Adesso ti ricomentiti Così La Giusto 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 Ragazzi 10.000 like E io Esconciato Lo hai già fatto Questa parte Non tagliarla Però ti do La tagliarla Appena poi L'arriva A 1000 iscritti Faccio un video Dove ballo Nudo in doccia Orange justice Non l'hai già fatto Sono morto L'ho perso Ma perché Brigitte è ritardata Viene contro di me Quando gli hanno agganciato La bomba Così da veri youtuber Scrivetemi in privato Sì Chiocciola E bro Quella è una canata Su Instagram Seguitemi tanti Sai che metterò Tipo un'altra parte Dove Tipo tu direi Seguimi su E poi Tipo te che urli E fai Ok Giusto Mi è arrivato un messaggio Al gioco Il nolleggio Per l'armatura È scaduta Con l'armatura Con l'armatura Con l'armatura Dei farlo Devi eserginarti di più Ah Tutti gli sciogli Tutti gli scioglilingua Vuoi che dica Marro marrone Eh Sì Oddio ripetilo please No Ah Ti l'ho dato Dai Ogni Ogni volta in classe Vi devo ripeterlo Perché è veramente Troppo bello Da sentire Ma cos Ma voi siete Di fustana Cioè nel senso Eh Polarai Twitter Eh Sì Ragazzi Seguite Polar Oh frasi Sono diventato Aspirante ufficiale Come il cazzo Mi chiamo Cos'è questa cosa Non capisco Soltanto tre parole Sole Cuore Amore Scusa Era necessaria Qui da live Con cuore di dio Sì sì esatto Gumball 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 Cosa mi piace Volevo dire Volevo dire Gumball Ah ok Beh sono identici Trampi sono gatti Entrambi No Entrambi Volevo Ah Dici che Gumball È un gatto Gumball È un gatto Gumball È un coniglio Pezzo di nero Gumball È un gatto No Raga Gumball È un gatto Non dite cazzate Ho scritto Gumball Però con la End Che Ho fatto la funzione Tra i due Dendo Gumball No Mamma non assomiglia Cioè è un gatto Cerca su Google Che lo ha qui davanti Qual è il problema di Gumball Sì qual è il problema di Gumball Gumball È figlio di un cazzo di coniglio E di un cazzo di gatto E lui Eh no aspetta Non può essere figlio di un cazzo È un cazzo Lei Ah nice La bagola Per te Mangia solo il suo latte No 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 Il biscotti Ma Ha già solo i suoi biscotti E beve solo il suo latte Lo beve veramente Come la mattina che non capisco un cazzo Lo dico Mangia il latte Ma porco Non continuava così Comunque fra Adesso facciamo partire Il momento lirix Momento lirix Vai 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 Su 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 Ci sono Sono pronto Sono pronto Lo sai Lo sai Lo sai Tutta Lo sai Tutta No Seguo di Stani Stani Cosi Stani No E' Wanda E' Gli Spera E' It's like a Brand new Doomsday Eh Ma cosa fa Io ho davvero Sto ambagliato Devi mettere Devi mettere Il cantante E' Gli Architex Che Urla E' Al posto Mio E' Wanda E' Gli Spera E' It's like a Brand new Doomsday Porca di Cora Grandissima Putta Nel senso Dei Fate I cattifari I zekhi Continuano Pannocchi Nei campi Del Salento Si fa il video Come è andato Dotto giorno Può portare Se ti indesiderate O' Grazie Attentamente Il follo Statico Tirei lontano Dalla portata I bambini Marcavato 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 Rau Dotto Tell Loved Ti �i Tire Tire Grazie a tutti.